Nella discussione sul piano delle opere pubbliche andata in scena in Consiglio Comunale, l'amministrazione ha spiegato che determinati progetti finanziati dal Piano Nazionale di Riprese e Resilienza ed altre risorse verranno rimandati all'anno prossimo. In particolare, 741.000 euro di spesa corrente per progetti legati alla digitalizzazione del Comune, ad esempio il sistema Pago.pia, l'applicazione Io, eccetera, e 2.887.000 euro invece di progetti legati all'edilizia, quindi all'edilizia residenziale pubblica, all'ERP, alle scuole. Tutto questo significa che il Comune non è alla pari con il cronoprogramma, cioè con il programma che aveva dato in fase di presentazione dei progetti. Come opposizione ci siamo chiesti se questo non debba essere un campanello d'allarme, se i programmi non sono rispettati e se non vi sia magari il rischio alla fine di non terminare questi programmi in tempo e quindi di perdere queste risorse. Ora ci auguriamo che tutto finisca per il meglio, anche se l'amministrazione comunale non si è resa disponibile a condividere con noi lo stato dei progetti e quindi rassicurare ai cittadini che le opere pubbliche che servono verranno effettivamente portate a termine in tempo. Già il Comune di Cremona, rispetto a comuni limitrofi e anche di simili dimensioni, ha presentato progetti legati ai finanziamenti PNRR di importo molto inferiore, cioè ha recuperato meno risorse di altri comuni. E queste minori risorse ora c'è il rischio che non vadano a compimento, cioè che il progetto non venga terminato in tempo e quindi si debba restituire le risorse allo Stato. Per essere sicuri noi chiedevamo che ci fosse un'attenta vigilanza da parte anche della parte pubblica e politica affinché i cittadini cremonesi avranno quelle opere che servono e penso appunto alle case popolari, alle scuole ma anche attività legate alla digitalizzazione del Comune affinché appunto migliori la qualità di vita dei cittadini. Speriamo che il nostro grido d'allarme non vada inascoltato ma che ci sia l'attenzione necessaria affinché tutto venga fatto per il meglio e nei tempi corretti.